Grazie, 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 sono contento veramente. Un altro dei nostri mali del secolo, del nostro tempo che ci affligge moltissimo, proprio che ci disturba assai, è la fretta. La fretta è una cosa bruttissima, anche perché ti mette addosso una certa premura, tu ti senti sempre come una certa fretta addosso, e invece no. Per esempio adesso saranno le 4, le 5, le 6, non so che ora è, comunque qualsiasi ora è, è sempre troppo tardi, e invece dovrebbe essere presto. Se noi non avessimo fretta, questa cosa non c'è. Quindi noi dobbiamo, e io avrei voluto mettere anche pure questa cosa sul 33 giri, perché è un altro problema, un altro malo del secolo, ma non ho potuto, perché come voi sapete, in un 33 giri, più di 33 giri non ci stanno. Io avrei messo anche 40 giri, 50 giri, ma poi i negozianti si lamentano, troppi giri tu hai agito in più, quindi sempre una questione della fretta. Quindi ragazze, mi raccomando, voi che siete giovani, insomma non tanto come me, ma insomma sempre giovani siete, cercate di fare il possibile per abolire questa fretta, e fate le cose con calma, e pensateci voi, perché io non so cosa fare, anche perché io ho un razzo che devo andare in piazza del Duomo, e vi saluto, arrivederci, perché ho molta premura, arrivederci.